Ciao, sono Fabrizio, il regista di questo porto. Questa è la nostra attrezzatura molto coefiglia. Abbiamo una Blackmagic, un poca cinema camera 6K, un treppiedi rotto, un dolly cinese e poi l'audio lo registriamo con il Rode VideoMicro. Nice. Ti piace la spallaccia? Sì, mi piace moltissimo. Ora oggi queste cose facciamo, per favore? Ok. Ho questo istinto di menarti. Da qualche anno, hai capito? No, per favore. Da quando hai tipo 8 anni che ti voglio menare forti. Possiamo finalmente annunciare fine lavorazione. Ed è fine lavorazione. La colazione. Cos'è la colazione? Sì, perché? Fine lavorazione. Aaaah! No, qua! No, qua! No, qua! No, qua! No. Grazie a tutti.